Fino al giorno della convalida, dovrebbero sapere sia quelli che rispondono che quelli che chiedono, l'ordinamento prevede che deve intervenire la convalida altrimenti non c'è la consistenza giuridica dell'eletto. Sto preparando un atto amministrativo che nella vita amministrativa ha il rango della delibera che consente di rintracciare quali sono gli elementi in corso e che meritano di essere assunti, portati avanti e completati. Questo perché si apre mura e cura dell'ordinamento, altrimenti assomiglia ad una condotta privata e non ad una condotta da responsabilità pubblica. Noi abbiamo da oggi, fino alla data nella quale scatta l'inveramento della condizione giuridica dell'eletto, in questo lasso di tempo l'ordinamento deve continuare a funzionare, altrimenti assomiglia ad una cantina. C'è un problema in Abruzzo, nel centro-sud e in Italia, per esempio in Abruzzo si chiama 70.000 persone che non ci hanno rivotato dopo il 2013. Su questo fronte noi dobbiamo costruire una proposta e un'offerta politica che li recuperi non solo dicendo le cose fatte ma anche immaginando. Per esempio io sono affascinato da questo tema del reddito di cittadinanza che è stato un grande tema assorbente e che ha riempito di sé l'efficacia di una campagna elettorale. E dichiaro che voterò a favore del reddito di cittadinanza perché mi sembra che su questo c'è stato un grande coinvolgimento di cittadinanza. Io sono contro un meccanismo inciucista che superi la distinzione tra chi ha vinto e chi ha perso. Io penso che debbano governare coloro i quali hanno vinto. E queste elezioni politiche sono state vinte dai Cinque Stelle e dai leghisti e ritengo che i cittadini abbiano stabilito chi deve governare. Così come hanno stabilito chi deve stare all'opposizione. Io ritengo una formidabile cura che poi in Italia quando si sta all'opposizione appena dopo si va al governo. E quindi ritengo che l'opposizione faccia anche bene per ritrovare un pensiero radicale.